La progettazione la possiamo eseguire qua da noi, oppure dall'altra parte del mondo, da New York, da Londra, oppure dall'Australia. Possono connettersi i nostri designer e andare a creare quelli che sono i design dei denti. O viceversa, noi possiamo ricevere con questo apparecchio i dati da New York, o da Londra, o dall'Australia, andare a produrre il design dei denti e mandarle indietro. Oppure un'altra cosa che possiamo fare, vieni ancora con me, te la mostro, è andare direttamente a produrre qua i denti da montare nella bocca del paziente che si trova a Londra o a New York. Vedi, qua siamo nel centro di produzione dei denti e qua vedi i robot che vanno a produrre i file tridimensionali che nel software erano stati progettati. E qua dalla polvere di titanio vengono fuori le barre in titanio che serviranno poi per creare i denti.